Il futuro dell'edilizia, questo il tema del workshop di InfoProgetto organizzato a Bari il 4 aprile 2017. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Numerosi gli interventi molto interessanti e le aziende presenti, compresi anche i progettisti che sono a corsi davvero numerosi. Vediamo. La Neolit è un'azienda innanzitutto spagnola, una pietra sinterizzata, quindi appunto un materiale completamente naturale, presentato sotto forma di lastre in grandissime dimensioni. Caratteristiche tecniche del materiale è sicuramente un prodotto appunto 100% naturale, molto resistente a quello che è il discorso delle alte temperature, non si graffia, non assorbe, non si macchia e per di più è un materiale che non soffre quelli che sono i raggi ultravioletti, quindi può essere applicato all'interno o all'esterno. Abbiamo moltissimo materiale cartaceo che possono trovare appunto anche qui direttamente in stand, nonché pagine internet come Neolit, quindi siti ufficiali e tutto quello che è il mondo logicamente dei social. Grazie a tutti.